Sindaco, ci sarà uno slittamento per vedere l'opera completata del ponte sulla Lento a Francavilla? Sì, si tratta di uno slittamento di circa due mesi, quindi uno slittamento che non mi preoccupa particolarmente. Sarò attenta che venga rispettato il cronoprogramma che mi è stato presentato dalla ditta e dal direttore dei lavori, ma sono certa che saranno in grado di rispettare i termini indicati. Quali sono i problemi che poi hanno scaturito questo slittamento? Problemi di natura tecnica proprio all'inizio dei lavori, però adesso hanno risolto tutto, pare che stiano andando speditamente. Fra pochi giorni vedremo già emergere la parte visiva del ponte che quindi nel giro di pochi mesi modificherà lo skyline di Francavilla. Un'opera importantissima anche per quanto riguarda poi quello che sarà il turismo estivo, sicuramente non si farà in tempo per l'estate 2022, ma per quella prossima sicuramente è un'opera importantissima per la cittadinanza. Io ritengo di sì, perché è un'opera che collega la zona nord e la zona sud di Francavilla, ma che collega tutto il territorio abruzzese e non solo francavillese, quindi andrà a completare la pista ciclabile anche alla luce del finanziamento che abbiamo appena ottenuto per la realizzazione della pista ciclabile dal porto fino al confine sud di Francavilla. Quindi insomma sarà importante sia la realizzazione del porto che la realizzazione della pista ciclabile. Sarà una delle prime opere per quanto riguarda il sindaco di Francavilla dopo la sua elezione? Sì, è un'opera che era già stata appaltata, era già in corso, quindi io mi occuperò di seguire i lavori. La parte della pista ciclabile invece sì, sarà una delle prime opere. Abbiamo tantissime opere da realizzare grazie ai finanziamenti arrivati e grazie anche ai finanziamenti che speriamo di conseguire con il PNRR.